Mara Venier e suo marito, Nicola Carraro, costituiscono una delle coppie più affiatate e amate nell'ambito dello spettacolo italiano. La loro storia d'amore è un fulgido esempio di amore duraturo che ha resistito al trascorrere di oltre 23 anni. Nel corso del tempo hanno condiviso pubblicamente la loro felicità e la loro complicità attraverso foto e post sui social media, regalando al mondo intero un affacciarsi nell'intimità di un amore profondo e autentico. Tuttavia, nelle ultime ore, una storia condivisa da Mara Venier su Instagram ha suscitato l'attenzione e la preoccupazione dei suoi fan. La storia in questione ritraeva suo marito, Nicola Carraro, seduto su una sedia a rotelle, molto probabilmente all'interno di un ospedale. Ciò che ha colpito profondamente i fan è stata la mancanza di dettagli sulle condizioni di salute di Nicola da parte di Mara. La conduttrice televisiva si è limitata a condividere l'immagine senza fornire alcuna spiegazione o aggiornamento sullo stato di salute del marito. Questa mancanza di informazioni dettagliate ha suscitato legittima preoccupazione tra i sostenitori di Mara Venier, che si sono ritrovati in attesa di notizie aggiuntive sulla situazione. Tuttavia, in modo inaspettato, Mara ha rimosso la storia su Instagram poco dopo averla pubblicata, lasciando i suoi follower con più domande che risposte. Attualmente, i fan attendono ansiosamente ulteriori aggiornamenti sulla salute di Nicola Carraro e sperano che presto verranno fornite informazioni più chiare sulla situazione. In questo momento, l'affetto e il sostegno dei fan sono rivolti a Mara Venier e alla sua famiglia, augurandosi che il marito possa guarire presto e che le incertezze possano essere dissipate con notizie positive. Prima di concludere, vorremmo ringraziarti per la visione del nostro video e invitarti a iscriverti al nostro canale e attivare la campanella delle notifiche per ricevere aggiornamenti sulle ultime notizie e curiosità. Sarà un modo per rimanere sempre aggiornato su eventi di grande rilevanza come questo. Inoltre, apprezziamo molto i tuoi commenti e feedback, quindi non esitare a lasciare un commento qui sotto con la tua opinione. Grazie per il tuo supporto!